Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di leggende, Pokémon Arceus! Siamo al Monte Corona, nella Cava degli Antichi. E continuiamo il viaggio verso il Capitano Melio e il suo Electrod, che bisogna placare perché è stato preso dalla collera divina del sommo sinno. Questo piccolo Bronzor non si è accorto ancora della mia presenza, oppure è un Pokémon non ostile? Ma io ti catturo lo stesso. Bella, la caverna che fa rimbombo, bellissima. Ti ho preso, bravissimo. Ah, tu sei ostile? E anche Bronzor che vedo che è molto ostile lì in fondo. Ah, ma scappa? Quale Pokémon metto? Vabbè, Typhlosion, ovvio. Sì, però voglia quel piccolo Bronzor. Non so perché certe volte i nomi di becco, con un attimo, a volte mi sbaglio perché devo pensare tre cose diverse e ci sono i nomi uguali, Bronzor e Bronzong. Può sembrare una scusa, e magari lo è. Però quando dico che mi ricordo tutti i nomi dei Pokémon, dovrò dimostrarlo prima o poi, in una certa maniera. E ci sarà modo di dimostrarlo. Si sta per aprire una distorsione scosa? Ah, ma vabbè, sì, ma è a chilometri di distanza. Comunque, a parte le cianciate che vi sto dicendo, facciamo i seri e andiamo avanti. Qui, qui è proprio Zelda Breath of the Wild vibes. Quando avrò Sneasler mi farò certe arrampicate che... E poi c'è anche da recuperare effettivamente una fiammella lì. Qua bisogna tornarci, purtroppo. Purtroppo, o per fortuna, perché comunque sia, ci sono aree che... Non credo esplorerò mai più nel gioco. Se non per fini di completismo. Allora, me la faccio un po' a pie... Ursa Ring... Ok. Sto colpogone, che tanto non userò mai, già lo so. Vabbè, Ursa Ring, sei un pezzettino però, eh. No, mi serve qui, mi serve qui, mi serve qui Machamp. Che ho raccolto! Vabbè, dopo lo vedo quello che ho raccolto. Aspetta un po', strofa un po', vedi che ho raccolto. Ah, questo? No, che roba ho raccolto? Era qualcosa di azzurro. Ma vabbè, sarà una bacca forse. Non lo so. A te pugno rapido potente... Basterà? Non lo so. Potrebbe. No, figuriamoci. Ma mostrano entrambi il petto. Gonfiono i muscoli. Pugno rapido potente un'altra volta, dai. Per fortuna, che pugno rapido è una mossa che ha priority, o priorità se vogliamo, in italiano. Quindi non perdo il turno, in teoria. Allora, raccoglimi qua. Sì, più vicino. Senti però, io capisco tutto, ma... No che mi fai queste porcate che ti mandano in un punto, vai a finire in un altro. Allora, quanti Ursaring? Ma che è? A fiera? Allora, questo sarebbe da intendere con i Pokémon scalatore. È vero, però... Se i Giaudata mi assistono... No, neanche per sbaglio mi assistono i Giaudata qui. Allora, farò una cosa un pochino che non dovrei fare. Ovvero, rasciare un pochino l'area. Non vorrei farlo, ma lo faccio. Perché, ragazzi, qua c'è la morte. Qui c'è solo morte. Oh, sapete cosa c'è qui? Qui c'è qualche poesia. Sono sicuro al 100% che c'è qualche poesia qui. Bello, Luxray. C'è qualche poesia sicuro? E io la troverò. Oh, scappa, 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 scappa. Paura, paura. Ma dove... Ma scusami, quello è Andy. E di là c'era il nostro amico Etelo. O Etelo, se preferite. Ma scusami. Aio. Che succede? Ah, non è Etelo! È la ragazzina! Escimo. Oh, membro del team Galassia, ti stavo aspettando. Sono qui perché sento che avete intenzione di installare una base nella zona. Sarebbe molto utile, effettivamente. Ma a quanto pare un bronzer sta intracciando i lavori. Tuttavia non dà segno di voler attaccare. Sembra solo che cerchi di richiamare l'attenzione. Ma non possiamo semplicemente ignorarlo. Potresti scoprire che intenzioni ha? Mi faresti un favore? Ok, vado a parlare con il piccolo bronzer. Ciao. No? Che succede, piccolo? Ah, devi arrivare di là? Con il tuo amico? Potrebbe esserci qualcosa in quella direzione. Sì. Cosa c'è? Altro bronzer, certo. E quindi? Ah, ma... Cosa? Perché non poteva andarci... What? Bronzer è volato improvvisamente in questa direzione. Ah, c'è un altro bronzer ed è ferito. Treme in effetti. Dobbiamo soccorrerlo subito. Ok. Bene, ora dovrebbe essere fuori pericolo. Quindi quel bronzer stava cercando il suo amico. Grazie a te siamo riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi. Forse è il caso di prepararsi con più attenzione del solito, se anche i Pokémon che popolano quest'area capita di rimanere feriti. Per fortuna io vendo ogni sorta di merce. Non esitare a fare scorta di ciò che ti serve. Oh, tu guarda. Mentre parlavamo hanno fitto di stadiare il campo base. Beh, allora ti saluto. Bene. Il campo base qui è molto utile per... Sì, va bene. Non per farci uccidere dai Goldhack. Perfetto. Ah, qui c'era proprio il terreno. Un altro colpogone. Ah, qui poi dopo potevamo... In qualche modo ricollegarci. Bello. Ah, c'è un'altra fiammella lassù che potevo prendere prima. La prenderò ora. Eh, la prendo ora sì. Non dovrei volerci Pokémon scalatore, no? Ma quella è l'area di inizio gioco. Vabbè, la prendo adesso, la prendo dai. Tanto posso usare il campo base, c'ho. Base di montagna, vai. Eccoci qui. Oh, allora, Professor. Bisogna andare per dove? Di qua, giusto. Andiamo a incontrare Andy. Ora dovremmo prendere Sneasler, esatto. Dovrebbe essere ora. Ma quanta roba c'è qui? Che bello. Bello. Ma... Ah, la musica. Eh, ci siamo ora, sì. Eh, sì, sì, sì. Infatti, ho guardato in alto, dico, ma... Come puoi vedere, le scarpate sono estremamente scoscese. Nessuno potrebbe mai sperare di scalarle con le proprie forze. A meno che non sei Chuck Norris. Tuttavia, sono certo che potrei avvalirti dell'assistenza di Sneasler. Saprà condurti in cima alla scarpata più rapida di un Intercity. E' come se conoscesse solo di quelle mosse MN. Scalaroccia, ad esempio. Quindi, non solo il poche passaggio di Alola è una cosa... Ehm... Ah, perché lui si ricorda del presente, va bene. Però sì, effettivamente conoscono mosse MN, se vogliamo. Ma cosa dico? Non esistono mosse MN a Hisui. Mi sento come se stessi per ricordare qualcosa. Chi ero io prima di giungere a Hisui? Se sei caduto dal cielo, è perché molto probabilmente provieni da un altro mondo. Sento che sfidandoti potrai recuperare sprazzi di memoria. Link, ti prego di accettare la mia sfida. Ma lui diceva di avere un Pokémon compagno di tipo fuoco. Quindi ce l'ha ancora. Ebbene, in carrozza Machoke, si parte! Ma perché fuoco e Machoke? Cosa c'entra? Però vabbè, rispidiamolo. Machoke contro Machamp. Padre e figlio, vai. Padre e figlio però è un ragazzo Machoke. Dice Machamp. Gran fisico potente, mi boosto il doppio. Mica non so se si boosta il doppio, veramente. Aumenta, dice. Ci solo aumenta. Acciaio contro lotta, amico mio. Ah, un effetto normale ha avuto. Ma pugno scarica e acciaio. Perché acciaio contro lotta normale, è vero? Vabbè. Ehm, toh. Tecnica potente. Ma anche io l'ho fatto gran fisico, no. Buono. Ah, brutto colpo. Ah, però, 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 però. Dunque pugno scarica e sdoppiatore. Sligu entra in campo, per favore. E' acciaio drago, però. Calmiamoci tutti un attimino. Revitalizzo Machamp. Ok. Puzzona. Bosse. Trocca a me. Troppulsa. A parte dovrebbe ricaricarmi i Pokémon lui ora. Ah no, c'è una tre, c'è una. Flyscore. Boia. Finita. Ah no. Non fa l'attacco terra. Va bene. Eh, vabbè, sì, dai. Eh, Sliguri rimane a terra ora. Eh, mi dispiace, ma non ho tempo per ricaricare. Prima l'ho ricaricato Machamp perché volevo che prendesse i punti, ma ora... Gelo pugno. Che è 4x. Quattro per. Cavoli, però è veloce proprio sto coso, eh. Accidenti a lui. Vabbè, comunque siamo prendo il turno. Dato che... Ho fatto attacco rapido. Se mi manda un fuoco per lui è finita. Tangela. E non ho paura. Potrebbe fare, però... Una mossa... Tipo... Qualcosa che causa paralsi. Paralizzante. Vede in polvere. Sonnifero. Ah, sempre io c'è il turno. No, boia. Bella, zio. No, potente. Bella comunque, bella davvero. Andata benissimo. Fantastico. Complimenti. Ma complimenti a te. Mmm, belli belli. Belli belli la squadra. Lontana da come la vorrei, ma belli belli. Grazie ai tuoi sforzi hai brillantemente raggiunto la destinazione. Ebbene, ora permettimi di convocare Snizzler. E' interessante. E' interessante. Cavoli quanto è alto. Un metro e paranta? E' altissimo. Link, hai davanti a te Snizzler? Suoneresti inflato per deliziare Snizzler con una melodia? Qualcuno ci ha azzeccato a dire che era Snizzle. Un'evoluzione nuova di Snizzle. Bene. Ora Snizzler ricorda la melodia. Se la ride. Ma sembra tipo uno di quelli che c'è ciuffo emo che sono giusto ogni tre secondi. Snizzler ha imparato la melodia che ha appena suonato. Uh, la strafiele che non ho mai letto. Cioè, io l'ho lette le altre per conto mio ma non in video. Tanto questi video non è che li guardano molte persone quindi alla fine. Io mi fermo a questa stazione e da ore cambia Snizzler che scalerà la scarpata con te. Una volta raggiunta la cima troverai il re da placare. Io torno sui miei binari per dirigermi al villaggio Giubilo. Porgi per favore i miei ringraziamenti a Medio per averci concesso l'onore di affrontare le sue innumerevoli prove. Ah, quindi era una prova? In carrozza! Si parte! Mmh, mi piace. Grazie a passaggio Snizzler potrei salire e scendere per le scarpate. Premendo il pulsante più o premendo il pulsante A in prossimità di pareti scoscese. Yes! Ma quindi ora devo per forza scalare la scarpata? Ah, non mi ha curato i Pokémon o che farà butto? Ah, fammeli curà. No, in realtà prima leggo alla strafiele. Nel mondo sul lato opposto al nostro il tempo e lo spazio sono governati da leggi diverse. Ah, poi quella di Gratina. Certo. Allora. Voglio vedere dove mi porta però sta strada. Se mi porta a visitare i posti che posso trovare... Uh, c'è il Meco! Uh, c'è il Meco! Andiamo un po'? No, scusi, ho scappato. Ma che cavolo è scomparso all'ultimo. Pozza che ha una diarrea fischio proprio. Tocca... Aspetta, fammelo segnare il punto qui. Che c'è il Meco. Oddio, però ne è apparso un altro, quindi non dovrebbe essere un problema trovarli. Ci sono un po' di Onyx, ma nulla di che. Un altro stava lì. Ok. Non penso ci siano problemi per trovare... Di C'è il Meco qui. Hippopotas. Hippodon. Ok. Interessante comunque il Monte Corona, eh. Ah, dei Pokémon davvero interessanti. Che piccolo sto Raiorn! Piccolino! Preso! Sembrano i catturati, ma piccoli! Ma è... Ma che cacchio? Ma è... È Shiny? Ma è Shiny? No, non è Shiny! È Sneasel di Isui! È Sneasel di Isui! Di questo, proprio! Quindi Sneasel non si evolve in Sneasel per qualche strana ragione, ma lo Sneasel di Isui si evolve in Sneasel. Ho capito! Ho capito! Aspetta, non è... Non è buio né ghiaccio? Ok. Interessante. Ah, si è potenziato l'attacco? Ah, 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 ah... Oh, io, oia, 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 oia. No, no, no. Scusami, ci provo. Eh, no! No. 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 Meno male. Quel Danza Spada mi ha spaventato tantissimo. Quindi vabbè Quindi non Ok ho capito ho capito Dove siamo qui? Ho qualche scantank Ah ok qui la parete vabbè L'istinto ora è quello di usare Snizzler Qualche magica Arpei No le peso ball Ho la wing ball Troppo alta la wing ball Chi è che rompe le scatole qui? Massiccio orto lì Va bene Ok Rolling stones praticamente Oh che bella Che bello usare sto posto Bella Hiswi Bella davvero Hiswi Eh ragazzi Anche questo episodio Se ne va in esplorazione Non ci posso fare niente Troppo bello esplorare Potevo mettere un altro pokemon Ma vabbè Eh sì sì Anche qui se ne va in esplorazione È bello che comunque Quasi ti obblighino A usare Snizzler Perché in questa maniera Ti fanno Ti bloccano i passaggi E quindi Ehi Usa Snizzler Non vai molto lontano Guarda lo uso qua Non dovrei ma lo uso qua Guardalo Come uno stambecco si arrampica Ah sono proprio Snizzler io Wow Va bene Ma che cosa No aspetta 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 Ah 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 Finalmente Eh vabbè Eh vabbè Ok bene Ah ok Aiuto Scappa Scappa Vai Ok andiamo di là Ora per davvero Però Bene Dai Voglio scalare qui Un altro Un altro Magneton Ah ma ce ne sono un po' qui Eh beh Giustamente Ok Va bello Oh Guarda un po' No vabbè dai Senti Quello era preso Che cavolo Ma che cacchio Ma dai Ma l'avevo preso in pieno 56 Ma siamo pazzi Ma fosse un alfa pure pure Ma non è un alfa Andiamo un po' con la peso Ma preso dai Almeno una consolazione Allora Eh no Andiamo così Per evitare proprio al massimo Ah ah Bisogna entrare lì vero Cioè proprio passare benissimo Ah Allora c'è un nuovo passo Invece Aspetta 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 Questo lo catturiamo di soppianto Guarda guarda Non si è accorto di nulla Pronti? Scoppino Beh Ero già pronto con Sneezer Scendiamo per favore Sneezer Dall'input Grazie Dio anche se non servirebbe Più di tanto Però sai com'è Evitiamo di farci male Inutilmente Ah no scusate Ecco qua Probopassa Non ci tengo ad affrontarlo E Ci sono due punti In cui entrare Credo che entro Ah Devo ancora salire Devo salire Dispiace se salgo Mannaggia a voi Dai Ok Ora Hyperior Alpha ovviamente Perché beh Figuriamoci Se non andava bene Oh Chingling Andiamo un po' Preso Allora abbiamo un altro Chingling Ma non mi interessa Per il momento Vai Voltorb Preso Bene Chi è che arrabbiatissimo Oh E che cavolo E dai Eh Tengo puntato Non va Ci picchia Farrebbe certe volte Va 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 Meglio di Sneezer Meglio di Sneezer Lui Oh Ma siamo arrivati Ah Uno stambecco Porca miseria Ah Qua potrebbe esserci Una un on Effettivamente Sapete Potrebbe Non è detto Sì Vabbè Quelli attaccano Intanto Perché sulle rovine Guarda in alto Sulle rovine Sì Vabbè Non sono proprio Scemo Qua pure Bisognerebbe Pulire L'area Per controllare Con calma Ah ma qua Ce ne sono altre Eh Con Luxray Alpha Non credo O pulire L'area O usare Qualche congegno Tipo le bombe fumogene Per non farci vedere O santo cielo Oh mio dio Cosa ho appena visto Tempio dei Memor Dei Ah possiamo anche arrampicarci qui Scusami eh Ma tu cosa Cioè c'è C'è un Pokémon sicuro Voltorb Ovviamente Però cavolo C'era La statua di Dialga Aspetta Aspetta Ma che cavolo La statua di Dialga E Palchia Giustamente Ma Ma Eh Annone potrebbe stare anche qui Forse Annone Sarebbe il luogo ideale Bellissimo Sto posto Cacchiarola che bello Bellissimo Il problema è che non so dove devo andare Mi sto allontrando dal punto del quale devo arrivare Allora Forchiamo Sneasler Dai Eccolo qua Eh sì sì Ora devo proprio darmi una mossa Ad arrivare Ok Beh qua posso pure usare lui Tanto Ah c'è una fiammella Allì va Bene Ok Ci sono altre fiammelle Sì ma non ci preoccupiamo Una Eh Dove devo andare Ah devo scendere però Ah oggetto sbarrito Vieni qua Vieni qua Eh che cavolo però Nonno ragazzi Con più fastidio però Ok Ah ma ero arrivato prima Non me ne sono accorto Bene Non me ne ero accorto di essere arrivato Sai Allora Qui c'è la prova Che affronterò nel prossimo episodio Perché adesso A parte che ho Fatto anche abbastanza Vorrei farla in questo video Ma Il tempo è quello che è Il tempo è tiranno Ci vorrà un po' per fare la prova Sicuramente Devo Ricaricarmi Pokémon No ci pensa lui a ricaricarmi Vero Anche se mi sa che devo affrontarlo Un'altra volta Benvenuto all'arena Accogli Luna Il sito legale di Electrod Ho tentato di fermarti Ho tentato di fermarti È vero Ma sotto sotto speravo Che tu arrivassi fin qui Forse sono le contraddizioni Dell'animo umano Ciò che ci spinge A maturare davvero Io Melio Membro del team Diamante Non desidero altro Che con piacere Sommosinno Dal momento in cui sono nato Forza Se pensi di poter battere Un capitano desideroso Di proteggere i suoi retti Concederò la possibilità Di provarci Vai Scantank Faglia non sarà di nuovo Il tuo tanfo letale Quindi possiamo affrontarlo Più di due volte forse Perché la prima volta Diciamo che non l'ho voluto Affrontare Perché per vedere Cosa mi diceva E mi sa che potevo farlo Di affrontarlo Intendo Sì ma tre Pokémon Che cavolo E non è Per niente giusto Volevo colpire Zubat veramente Ma Eccola là Te pareva Boh Eh Buonanotte Certo Ah Maledetti roll Alti e bassi E ti sbieghi Per lungo Per lato Oh Ma niente questo Sono più fastidiosi I mobbetti Che non i boss Eccola Perfetto Perfetto Anche manda K.O. Non fa nulla Ricarico Tutto Ricarico Ovviamente Notte Sperza Un Pokémon Buio Se non ha Notte Sperza Non è normale Però Però Sei tipo anche Veleno Vero No Allora Non ricarico Ti faccio Pugno Scarica Potente Mamma mia Che non Proprio Niente Ovviamente Ah non riattacca Lui Strano Ah perché ho fatto Pugno Scarica Eh no Pugno rapido Ci provo A mandarlo K.O. Da stab Dovrebbe fare Effetto Bene Meno male Si avvasso Anche dei Pokémon Selvatici Farabutto Mossa padroneggiata Per Espion E Flozzle No Non ho perso io Hai vinto tu Sono due cose Diverse Ah se solo Avesse avuto Più tempo Più tempo Per allenare La mia squadra E farla diventare Ancora più forte Ora capisco Ecco perché Daemon dice sempre Che il tempo È prezioso Il team diamante E il sommosino Sono vere fonti Di saggezza So già Cosa vuoi chiedermi Vuoi sapere Cosa piace A Electrod Per fare delle spare zen Vero Mi spiace Deluderti Ma non posso Dirtelo Se proprio ci Tieni a sapere Il motivo È perché Me lo sono Completamente Dimenticato Eh no Proprio no Oh Te la sei forse Presa Arrabbiandoti Non risolverei Nulla Sai Ti potrei Prendere a pugno E mi sentire meglio Vedo che Meglio Ti sta facendo Dannare Link Già Daemon Dagli qualche Scoppinata Alzi i capelli Spam Sull'osso Del collo Perdonami Mi sono scordato Di dirti Qual è il cibo Preferito Di Electrode Damun Che vuoi Tra amici Guarda che ti ho sentito Perché vuoi dirgli Quale è il cibo Prediletto Di Electrode Sei il leader Del team diamante O no Lascia perdere Sta gentaglia Del team galassia Ascoltami bene Testa quadra Hai visto o no In che condizioni Hai il re Non provi nulla Guardandolo soffrire A causa di Quell'energia Incontenibile Ti sbagli E' in preda La gioia Per essere Stato scelto Dal sommo Sinno Ma vi rendete Conto che idea Sbagliata Che hanno Questi del potere Del sommo Sinno Che sia Palche Di Algar Chaos Chiunque sia Vi rendete Che idea Distorta Che avevano Una volta Nell'antichità Perché comunque Sia siamo Proprio Antichità No Però siamo In tempi Piuttosto Remoti Qui Chiunque Deve affrontare Delle prove Per crescere E queste Comportano Angosce E dolori Stai dicendo Che la Codera Dei pokemon Regali E' una Prova Data Dal sommo Sinno No Non credo Proprio Per questo Aiuterò Link I team Non hanno Importanza Ora come Ora Anzi Non volevo Limitarmi A dirgli Che il materiale Necessario E' del Minerale Duro Gliel'ho Portato Personalmente In effetti Non l'ho Trovato Proprio Io Minerale Duro Ora Forza Meglio Muoviti A fare Le spere Zen Per Link E va bene Dopotutto Sono pur Sempre Un capitano Creerò Queste Spere Zen Sì Nel prossimo Episodio Assolutamente Andremo Ad affrontare Electro Ecco Ho creato Una valanga Di spere Zen Lancia Le Electro Senza Riserve Ma ti avviso La sua forza È sorprendente Dubito Fortemente Che riuscirai A placarlo Ma non Mi cura Nessuno Aspetta Allora Ah Posso Andarci All'arena Accogli Luna Ah Va bene Allora Fatemi Riposare Il falò Si è acceso All'improvviso Ottimo Andiamo Benissimo Questa è la direzione Da prendere Con i prossimi Giochi No vabbè A parte I scherzi Bene Allora direi Che per questo Video è tutto Io come sempre Vi ringrazio Per averlo seguito In descrizione Trovate ovviamente Il link Per Instagram E Telegram E se ancora Non siete iscritti Al canale Magari Iscrivetevi E noi Ci vediamo Ovviamente Domani Con un nuovo Video Bye Grazie a tutti Grazie.